E' un po' di bianco. Ed eccoci pronti all'inizio del combattimento, dicevamo tre round da due minuti nella prima ripresa. E' un po' di bianco. E' un po' di bianco. Guardia. Vai. Esatto, esatto. Stop. Vai. Stop. 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 Termina la prima ripresa. Stop. 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 come si impara in bere a saputurile in parafaltare al valuto come ha treccato dentro partita finca finca bravo 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 Grazie a tutti. Per questo combattimento che abbiamo sul ring un rappresentante della Coemar per l'impianto Lucci, Victor Coemar. Qual è ovviamente il nostro ringraziamento? Andrea Gazzaniga, Belluino Kickboxing Team. Un applauso a Andrea Gazzaniga e un applauso a Nicolo Dallavolta del Boxing Farm Paelli.